passione alfa a verona legend cars anzi perdono rosso alfa questa è una bellissima mostra allestita dall'amico luca gastaldi che stranamente dico stranamente perché di solito siamo abituati a vedere le alfa degli anni 60 70 le gta queste sono auto più recenti auto vittoriose una mostra che raccoglie appunto queste splendide alfa romeo dall'87 al 2007 e quindi partiamo con le ultime mi riferisco alla 156 questo è un esemplare che ha corso fino agli anni 2006 2007 con la scuderia auto delta e nel 2005 in configurazione super 2000 che come sapete correva anche nei rally è arrivata seconda al campionato mondiale turismo ma questa forse la 156 un pochino più rappresentativa conosciuta come gta questo è un esemplare del 2000 super mega stra vittorioso perché nell'europeo dal 2000 al 2003 ha raccolto ben quattro campionati dal 2000 al 2002 con giovanardi mentre nel 2003 con tarquini venite un po vedere il motore che abbiamo chiesto di lasciare aperto perché vale la pena dare un'occhiata questa configurazione più o meno come la super 2000 erogava 275 cavalli comunque la macchina poco meno di 1000 kg se non ricordo male quindi prestazioni assolute e con un'auto simile a questa anche il nostro direttore di timotosport.com franco nunez corse nel 98 in un campionato monomarca dove c'erano ben 40 156 altri tempi e sellarini nel 93 ha fatto conoscere all'europa al mondo la 155 più estrema su questa 155 d2 c'è un aneddoto da raccontare questa è una macchina derivata dalla silverstone che conosciamo ma proprio questa vettura appartiene a tarquini che nel 94 vinse il campionato inglese turismo il btcc con otto vittorie e all'inizio dell'anno comunque ci fu una scommessa con l'allora direttore tecnico giorgio pianta se vinco la macchina è mia con otto vittorie vinse e appunto la macchina appartiene a tarquini e chiudiamo con la più antica diciamo così tra le alfa qui esposte al rosso alfa un esemplare di 75 turbo evoluzione dell'87 infatti con questo modello alfa corse e parecchio gruppo n da 204 cavalli col turbo a 1,4 bar a 3 da 280 cavalli col turbo a 1,5 bar ma questa macchina arrivò anche con la preparazione IMSA a 400 cavalli col turbo a 2 bar la 75 la conosciamo sta rivalutandosi perché è l'ultima alfa trazione posteriore e come dire piace grazie 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 grazie